Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Krix e oggi ragazzi siamo su GTA 5 Online con un nuovo video ragazzi sulle gare Eh si ragazzi siamo tutte le gare, siamo in tantissimi, comunque 3, 2, 1, partiamo subito ragazzi, abbiamo la nostra zentorno e siamo in 13 ragazzi Abbiamo due giri, la gara non è neanche cominciata da circa 16 secondi e già a boccio il primo salto, comunque ok Andiamo ragazzi andiamo, vabbè il salto un po' è mancato però L'unica pecca ragazzi mi sono scattato di togliere l'aiuto giocatori in coda quindi sarà un bel po' problematico staccarsi da tutti quanti Comunque salto e stiamo dentro qua e ok siamo in 13 ragazzi siamo in 13, siamo veramente tantissimi e di solito non entra mai nessuno nelle gare Vabbè dai, allora, ok cosa abbiamo qui? Abbiamo un cazzo di warride, spirale ragazzi con i boost distrutti, non so che diavolo è Comunque vediamo di andare, attenzione, attenzione ragazzi, attenzione, aspetta che faccio così Hola, checkpoint preso ragazzi, non so, oh che cavolo è il mega esplosione ragazzi Eh ok, allora siamo qua, abbiamo già preso il primo checkpoint e siamo in terza posizione, seconda ragazzi, seconda posizione, ok va il zentorno Andiamo, andiamo, andiamo zentorno, attenzione ragazzi, attenzione, il checkpoint, no l'ho mancato, non ci credo, non ci credo Ok andiamo, 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 andiamo zentorno, andiamo zentorno La becca adesso è che ci saranno anche le auto che arriveranno contro, perché ragazzi questo è un andato e un ritorno, quindi ci saranno ben due giri Hola, finalmente passiamo di qua ragazzi, metodi alternativi, perfetto, checkpoint preso E siamo in seconda posizione ragazzi, vabbè abbiamo altri due giri, quindi proveremo a recuperare nel secondo giro Ok, secondo giro, secondo giro, perfetto, perfetto Ok, ci risiamo, ci risiamo ragazzi, seconda posizione, ci risiamo, andiamo di potenza ragazzi Oh, 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 frena, 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 frena zentorno, frena Attenzione ragazzi, attenzione, ce la facciamo No, 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 non ci credo, no, non ci credo, non ci credo, ero lì, non ci credo, non ci voglio credere ragazzi, non ci voglio credere Non ci voglio credere ragazzi, ero lì, come ho fatto, come ho fatto, ah vabbè perché è arrivato quell'incontro Però ragazzi ve lo giuro ero lì Dai di nuovo No raga è impossibile Non ci sto credendo Attenzione checkpoint Ok ce l'abbiamo ragazzi Con metodi alternativi però ce l'abbiamo Quello l'abbiamo buttato a mare Ok dai facciamoci una girata veloce Andiamo subito E andiamo a concludere Questa gara a prima posizione Siamo primi ovviamente Dobbiamo finire a mare perché il gioco mi odia Andiamo che un altro acquittato Ragazzi va benissimo così Qui intanto facciamo la spirale Ok andiamo così perfetto Ragazzi metodi alternativi Checkpoint preso Finalmente ragazzi non ci voglio credere Assurdo Guardate quante persone che stanno respawnando ragazzi Così facile fare questa spirale Boh Mi ritrovo in sessione con dei nabi ragazzi Comunque ce l'abbiamo fatta Anche in questo secondo giro Certo con un po' di ritardo però hanno già concluso in prima Ragazzi quindi vabbè noi appunto Vedremo di arrivare in Seconda posizione ragazzi Ormai è nostra la seconda posizione Io ovviamente devo mancare il checkpoint Ovviamente Ed eccoci qua ragazzi L'ultimo checkpoint Ecco qui il traguardo ragazzi Andiamo a concludere questa gara in seconda posizione Mamma mia ragazzi Mamma mia che gara ragazzi È stata veramente una gara molto intensa Con anche la spirale Veramente fantastica Comunque sia niente ragazzi Gara molto bella Quindi ci vediamo subito con la seconda gara Ed eccoci qua ragazzi Terza e ultima gara Abbiamo le sportive Siamo in otto ragazzi Non entrava nessuno Non ci voglio credere Una sessione di 30 giocatori Siamo solamente in otto Vabbè dai 3 e 1 Partiamo tutti con le massacro ragazzi Tutti Poi vabbè c'è anche chi ha preso la massacro da gara Comunque È una gara all'aeroporto Abbiamo tre giri E la gara era impostata per le super Solo che io Dato perché sono HB Non rispetto mai le regole Ah no c'è una con la 9F Prendiamo tutti con le progetti E dicevo Dero che appunto La gara era Solo formata dalle super Io ho voluto cambiare Mettere sportive Per rendere diciamo La cosa più interessante Volevo farlo Volevo fare questa gara Con la verli error E qui che cazzo abbiamo ragazzi Oddio ma che cazzo è Raga ma che cazzo è Tutto di next sto facendo E poi sbaglio Ma che cazzo Ragazzi ma che cacchio è Una rampa veramente bellissima ragazzi Che poi un wall ride Con tanto di spirale E checkpoint storto qua Allora iniziamo subito con la spirale Vai massacro vai Attenzione spirale 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 Wall ride Wall ride Attenzione checkpoint Preso Non ci credo Ce l'abbiamo fatta ragazzi Seconda posizione Però ce l'abbiamo fatta Avanti così ragazzi Abbiamo tre giri Di questa gara Bellissima ragazzi Bellissima la La spirale Ecco mi è piaciuta molto Devo dire E l'unica cosa che Non lo so L'ho trovata un po' troppo corta Sinceramente O forse perché La potenza Delle sportive Sarà troppo Stata troppo bassa Però devo dire che a me Personalmente mi è piaciuta Come rampa E adesso ci saranno Tre giri Quindi ne andremo A rifare per altre due volte Allora qui c'è un altro salto ragazzi Salto Che diavolo di salto Ah era un salto Che con abitamento Però ovviamente Noi siamo a cab Quindi abitamento Non c'è Ok siamo Secondo giro Dovemmo essere ragazzi Esattamente Eccoci qua Secondo giro ragazzi Tutto per noi Facciamo 60 like Per un prossimo Episodio delle gare Mi raccomando ragazzi Fatemi vedere il vostro supporto Vi porterò appunto Un delle gare Con la verriera Comunque sia Siamo qua Ok c'è gente C'è gente E la cosa Non mi piace ragazzi Ok spirale Wow 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 Checkpoint preso No ragazzi Non ero neanche concentrato Ma ce l'ho fatta E siamo esplosi Vabbè L'importante È aver preso il checkpoint Ragazzi E questo è l'importante E niente ragazzi Vi stavo dicendo Non stavo concentrato Sulla rampa Ecco vi stavo un attimo parlando Però alla fine Ce l'abbiamo fatta Comunque sia Mi è piaciuta Veramente bellissima Qui ragazzi Cerchiamo di fare L'avvitamento Ok mamma mia Ok adesso Fermati massacro Perfetto Mamma mia ragazzi Una gara veramente Molto Molto bella Devo dire Molto tranquilla Ecco Ok terzo E ultimo giro ragazzi Ce l'abbiamo fatta Siamo qua Ok E ci apprestiamo A fare questa rampa Per la terza volta Oh wow wow No 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 Merda Allora Quello lasciamo Passare avanti Ok Te vai a schiantarti Perfetto L'avevo detto io No E vabbè ragazzi Non cominciamo male Questo terzo giro Ok ci siamo E sbaglio Il wallride Aspe non ci credo No ragazzi Non esplodevo ragazzi Se non esplodevo Potevo farmi il wallride Senza farmi tutto il pezzo Vabbè dai non importa No è assurdo ragazzi Ok spirale Spirale Wallride Wallride Oh Finalmente ragazzi Non ci voglio credere Finalmente Un minuto e trenta Per fare Insomma tutto il pezzo Là Quando Per i primi due giri L'ho fatto tranquillamente Al primo colpo Ragazzi Non lo so La logica di GTA È sempre più strana Devo dire dai Eppure ho attivato L'aiuto giocatori in coda Il primo ha già concluso Però Vabbè dai Seconda posizione Direi che ci può stare Ragazzi E niente dai Qui andando Facciamo l'avvitamento Ok Perfetto Attenzione Massacro Ok E niente Siamo qua ragazzi Ultimo checkpoint Andiamo ragazzi A concludere questa Terza e ultima gara In seconda posizione Mamma mia ragazzi Mamma mia è stata veramente una gara Con i controcazzi Devo dire Mi è piaciuta molto Anche insomma come rampa e tutto Sei giocatori Se fossimo stati 3-4 in più Avremmo sicuramente Avuto dei problemi appunto A fare questa gara O meglio avrei avuto dei problemi A fare questa gara Comunque sì E che dire ragazzi Non ne spero che il video vi sia piaciuto Se volete altri episodi delle gare Mi raccomando di lasciare un mi piace ragazzi Voglio almeno 60 like Ragazzi Il vostro supporto è importantissimo Per me Mi raccomando Passate in descrizione C'è il link della pagina facebook Di instagram E del profilo pubblico di facebook Quindi raga Andate in descrizione Trovate tutti i link Quindi niente Qua da Crixo è tutto Io vi saluto E noi ci vediamo Al prossimo video BELA Ciao 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 Ciao